Per ora, di certo, c'è solo la denuncia della sua sparizione, presentata dal padre alla fine di agosto, ma con tutta probabilità la scomparsa di una diciottenne di origine tunisina, residente da diversi anni a Fonte, conduce direttamente alla jihad islamica che si combatte in Medio Oriente. Secondo fonti vicine all'intelligence, del caso si stanno occupando i servizi segreti e il Ministero dell'Interno, dopo aver abbracciato la fede islamica di matrice più strettamente integralista, la giovane si troverebbe in Siria, arruolata nelle fila della Guerra Santa. Vicende fino ad oggi percepite come lontane, che entrano di prepotenza nelle cronache del Bassanese. Il sindaco di Fonte, Massimo Tondi, è sconcertato, padre e madre della ragazza sono separati, lui vive ancora in paese dove si era trasferito con la famiglia diversi anni fa. Sono esterefatto come voi, come tutti, penso di questa notizia, ribadendo che è un qualcosa di potenziale, insomma, è solo un'ipotesi. Cosa cambia da oggi se cambia qualche cosa qui? Per me non cambia assolutamente nulla, anche perché voglio dire che l'amministrazione comunale, come la comunità, ha fatto sempre quello che si poteva per integrare gli stranieri. Per cui voglio dire che quello che abbiamo fatto prima continueremo a farlo. Tondi preferisce non scendere nel dettaglio della famiglia, che peraltro sostiene di non ricordare. Sulla vicenda gli è stato chiesto di mantenere un certo riservo. A Fonte ci sono poco più di 6.000 abitanti con una fortissima presenza di stranieri, tra i quali non manca naturalmente una folta comunità islamica. In paese la sensazione è forte. Sono preoccupata. Tutte queste cose che sentiamo, tutte queste cose che sono successe, non sono belle cose. E anche quelle che abbiamo sentito in Francia, tutte queste storie, abbiamo paura. lei ha cresciuto con le sue radici, non è strano, non è una cosa strana. In questi tempi tutti stanno arruolando con quelli lì, non so che cosa dirti. Io sto lavorando, lavoro con i giovani, società sportiva, di parla a volo. Si parla di certi argomenti? No, noi no. Io no perché non sono né la persona adatta, anche se bene o male educatore sei.